Lo sapete che all'Astra Caffè sforniamo dell'ottima pizza? Se ancora non l'hai provata, vieni a trovarci! Una pizza ad alta digeribilità a lunga lievitazione, croccante e gustosa, preparata con un mix di farine pregiate e lievito madre, olio extravergine di oliva e mozzarella fresca della campagna. Per il tuo aperitivo, prova anche i nostri meravigliosi taglieri di salumi e formaggi, da gustare nella nostra nuova oasi esterna. E per finire, la pasticceria di nostra produzione, Caffè aromatico e arabica Giulio Smile ed estrati di frutta e verdura a freddo. Banastra e pizzeria, al centro di Pesaro, il centro del gusto.